E' stato un anno complicato per il cinema e per le sale italiane ed è proprio per questo che la 49esima edizione del Flaiano Film Festival punterà soprattutto al recupero del piacere e della condivisione. A dichiararlo è stato Riccardo Milani, da 5 anni direttore artistico del Flaiano Film Festival, che dal 27 giugno al 1 luglio tornerà con un ricco programma presentato questa mattina al Media Museum di Pescara. Carla Tiboni, presidente dei premi Flaiano, annuncia che quella di quest'anno sarà un'edizione importante per noi perché ha delle novità che partono da quelle dell'inserimento del festival del cortometraggio, ha una novità che riguarda il prezzo. Quest'anno abbiamo deciso di abbassare ad un euro il prezzo di biglietto d'ingresso proprio per favorire l'accesso alla cultura cinematografica e la possibilità per tutti di partecipare al festival. Ed è un festival che secondo me si contraddistingue sia perché avrà una vetrina di film attuali, contemporanei e importanti che hanno avuto molto successo al cinema, ma anche una retrospettiva, una vetrina di film di cui non si può non tenere conto e che hanno contribuito a costruire la storia del cinema italiano e parlo sia di Pasolini che di Gasman. Panorama, cinema restaurato, corti e opera prima e seconda in concorso. Sono quattro le sezioni dei film che nell'ambito del festival saranno proiettati al teatro d'annunzio di Pescara a prezzi calmirati grazie al supporto degli sponsor. Le serate conclusive dei premi Flaiano, il 2 e il 3 luglio, saranno come sempre seguite in diretta da Reteotto. Riccardo Milani, direttore artistico del Flaiano Film Festival, punta sull'importanza del ritorno alla condivisione. Il festival punta sul cinema italiano e punta sul recupero della sala, cioè del cinema vissuto insieme agli altri. Non c'è un'emergenza commerciale per il cinema, c'è un'emergenza etica. Stare insieme in una sala significa condividere, significa stare insieme alle persone e sentirne le reazioni. Tra le varie abitudini a cui ci ha costretto l'emergenza c'è anche quella di esserci chiusi in casa, a fruire di tutto, dagli abiti al cibo al cinema. Ecco, il cinema deve tornare ad essere un momento di condivisione e questo il festival lo mette al primo punto, perché evidentemente puntiamo sulle presenze in sala, contiamo sulle persone che seguiranno il film insieme ad altre persone. È stato un anno complicato per il cinema italiano, per le sale italiane e per cui l'impegno del festival è quello di recuperare il piacere della condivisione.